Il brigantaggio fu una risposta multifacettata alle trasformazioni sociali, economiche e politiche che investirono il Sud Italia in quel periodo. Le origini del brigantaggio postunitario Il brigantaggio postunitario non fu un fenomeno improvviso, ma affondava le sue radici in una tradizione di banditismo rurale che caratterizzava il Mezzogiorno da secoli. Tuttavia, dopo l'unità d'Italia, esso assunse nuove connotazioni e dimensioni. La fine del regno delle due Sicilie e l'annessione al regno d'Italia portarono a profondi cambiamenti nella struttura, sociale e politica del Sud. La questione meridionale La cosiddetta questione meridionale è emerse come una delle principali sfide per il neonato Stato italiano. Il Sud era caratterizzato da un'economia arretrata, una società fortemente estratificata e un diffuso analfabetismo. Le speranze di miglioramento legate all'unità furono presto deluse da politiche governative che sembravano ignorare le specificità del territorio o la repressione del brigantaggio. La risposta dello Stato al brigantaggio fu principalmente militare e repressiva. La legge epica del 1863, ad esempio, introdusse misure eccezionali per combattere il fenomeno, ma spesso queste si tradussero in violenze e abusi che alimentarono ulteriormente il malcontento. La repressione del brigantaggio fu brutale e sanguinosa, con migliaia di briganti uccisi e una violenza che non risparmiò la popolazione civile le cause socio-economiche. Le cause del brigantaggio erano profondamente radicate nelle condizioni socio-economiche del Sud. La miseria, le ingiuste distribuzioni di terra, le tasse opprimenti come l'imposta sul macinato e la leva obbligatoria spinsero molti contadini verso la vita da Brigante 2. Inoltre, la caduta del regno delle due Sicilii aveva lasciato un vuoto di potere che i gruppi di fuorilegge sfruttarono per affermare il proprio controllo sul territorio. Il brigantaggio come fenomeno politico nonostante le sue origini sociali, il brigantaggio assunse anche una dimensione politica. Molti briganti erano ex soldati borbonici o contadini che vedevano nel nuovo Stato italiano un oppressore, piuttosto che un liberatore. Alcuni gruppi furono addirittura sostenuti dalla nobiltà e dalla Chiesa, che vedevano nel brigantaggio un modo per contrastare il potere e sabaudo conclusione. Il brigantaggio nel Meridione d'Italia rappresenta un capitolo doloroso e complesso della storia italiana. Esso riflette le difficoltà di un paese appena unificato nel comprendere e integrare le diversità interne. Ancora oggi, il brigantaggio è oggetto di studio e dibattito, simbolo delle contraddizioni e delle sfide che hanno accompagnato l'Italia nel suo cammino verso l'uniquesto articolo, offre solo una panoramica generale del brigantaggio postunitario. Il brigantaggio nel Meridione italiano è un argomento storico affascinante e complesso. Per comprendere meglio questo fenomeno, esploriamo alcune delle sue caratteristiche principali. La questione meridionale, nel periodo postunitario italiano, si cominciò a parlare della questione meridionale. Questo termine denunciava il ritardo economico e culturale in alcune regioni del sud del paese. Molti politici del nord avevano scarsa conoscenza delle realtà meridionali, e questo contribuì ha una visione distorta della situazione. Chi erano i briganti? I briganti erano banditi che operavano principalmente nel sud Italia. Alcuni dei più famosi esponenti del brigantaggio includono Cosimo Mazzeo, detto il Pizzichicchio, nato a San Marzano nel 1837. Fu uno dei signori più temuti e importanti del brigantaggio meridionale Salvatore Giuliano, considerato il maggiore esponente del brigantaggio, operò in Sicilia fine del brigantaggio. Nel 1870, il governo italiano soppresse le zone militari nel meridione, segnando la fine del brigantaggio. Gli ultimi briganti furono catturati con l'uso della cavalleria in sintesi. Il brigantaggio nel meridione italiano è stato un fenomeno complesso, influenzato da molteplici fattori storici, sociali ed economici. Questi banditi sono stati spesso descritti come eroi o criminali, a seconda del punto di vista.